Dopo alcuni anni di assenza dalla televisione Matilde Brandi si è rimessa in ballo, e l'ho fatto calcando il palcoscenico di Si può fare il programma andato in onda fino a lunedì scorso su Rai 1, l'ex di Madonna del Bagaglino e Sobrette di molti varietà di successo come fantastico e bellezze al bagno è tornata sul piccolo schermo ricordando a tutti, che la classe non è acqua e non evapora con il passare del tempo, tra le prove acrobatiche in linea con le sue doti atletiche e alcuni invece per le inedite, Matilde Brandi si è rivelata sicuramente una delle concorrenti più estrose del programma, ma ha dovuto lottare con una giuria non molto clemente nei suoi confronti, forse proprio per la sua formazione di danzatrice, che paradossalmente ha rappresentato uno svantaggio piuttosto di un punto a favore, Matilde Brandi, Amanda Lear non è mai stata generosa con temi nelle puntate, premesso che si può fare, era solo un gioco, tra l'altro molto divertente, in cui non ci sono mai state polemiche e nemmeno cattiverie, devo ammettere che tra me e Amanda non intercorreva una grande simpatia dal punto di vista concorrente e giudici, ogni tanto, però, mi veniva il sospetto, che le fosse antipatica, perché non mi ha mai dato un voto positivo, anzi, no, una volta mi ha votato a favore, ma forse perché quel frangente non poteva fare altrimenti, insomma, Amanda mi ha dato davvero del filo da torcere, Matilde Brandi forse avresti dovuto sostenere altri generi di poche, sì quando sostenevo una prova fisica, la valutazione dei giudici era condizionata dal fatto che sono una ballerina, indi si aspettavano da me determinati tipi di prestazioni invece la prova del grande mago per esempio, esulava da contenuto acrobatico, Matilde Brandi, qual è stato il concorrente più temibile io non ho mai temuto nessuno, di certo i concorrenti più ostici da superare a mio parere sono stati Tommaso Rinaldi e Biagio Izzo, erano un gradino sopra gli altri, Tommaso che è un truffatore a dotti atletiche fantastiche, Biagio, invece si è distinto per la sua personalità brillante, Matilde Brandi il tuo lato sexy non è passato inosservato neppure in questa trasmissione, io invece credo che ci fossero concorrenti più sexy della sottoscritta come Pamela Prati, Mariana Rodriguez, Juliana Moreira o Costanza Caracciolo, io, se mai ho messo in mostra il mio lato più agonistico, lo sport mi permette di restare in forma e soprattutto mi ha trasmesso il valore del sacrificio e della costanza, ma non vorrei soffermarmi sui singoli concorrenti, quanto far notare come il cast fosse variegato eravamo tutti diversi, sia dal punto di vista delle estrazioni professionali di ciascuno che da quello delle nostre personalità un bel minestrone ha sortito, e ritrovare Carlo Conti, che ammiri moltissimo, si, Carlo è un grande l'unico che porta avanti il genere del varietà un genere, che al contrario di quello che ci fanno ridere non è mai morto ma che vogliono fare morire invece Carlo Conti riesce a trasformare anche un programma come si può fare in un programma di intrattenimento di quelli che andavano in onda negli anni 80 e 90, lo ringrazio perché mi ha riportata in televisione dopo qualche anno di lontananza a dir la verità non ho mai abbandonato completamente la televisione, ma con questo programma sono tornata protagonista e ora tutti sanno che esistono ancora, Matilde e Brandi a nostalgia del bagaglino? sono altri tempi, Pier Francesco Pingitore è un maestro ha lanciato tante sobrette, peccato che oggi di sobrette non ne vedo in circolazione, le veline potrebbero essere definite tali, ma una sobrette deve sapere fare tutto, ballare, cantare, presentare al prossimo luglio